Torino, 7 Mag, è inquadrato come collaboratore di staff Luca Pasquaretta, portavoce della sindaca Chiara Appendino finito nella bufera per una consulenza da 5.000 euro prestata lo scorso anno al Salone del Libro. Legato da un rapporto fiduciario con l'organo che rappresenta, si occupa dei rapporti con gli organi di informazione e delle pubbliche relazioni. Il suo contratto prevede uno stipendio tabellare di poco superiore ai 26.000 euro e una indennità di altri 17.000 euro, per un totale di 43.564 euro lordi, importo sbandierato dal Movimento 5 Stelle a inizio mandato come esempio di riduzione dei costi della politica a confronto dei 145.000 euro lordi percepiti dal portavoce dell'ex sindaco Piero Fassino nella precedente legislatura. In base all'articolo 90 del DLGS 267-2000, al personale di staff viene applicato il contratto collettivo nazionale del personale degli enti locali e prevede un orario settimanale di 36 ore. Gli straordinari non vengono pagati. Il collaboratore dovrà assicurare la propria presenza quotidiana in servizio e organizzare il proprio tempo di lavoro, recita l'articolo 6 del contratto tipo del collaboratore di staff, correlandosi in modo flessibile alle esigenze dell'incarico affidato alla sua responsabilità. ANSA